Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi giovedì 12 ottobre 2017. La rassegna stampa di Fano TV che apre la giornata informativa. Il primo appuntamento è in diretta alle 7 e 30. Ben ritrovati allora. Cominciamo dal santo di oggi. Oggi è un santo nostrano, un santo marchigiano. Si tratta di San Serafino da Monte Granaro. È stato un religioso seguace di San Francesco. È nato nel 1540 in una famiglia povera. Da piccolo Serafino lavorò prima nei campi, poi come apprendista muratore. E cominciò a girare tutti i conventi delle Marche. Morì nel 1604 ad Ascoli. Il sole è sorto alle 7 e 18 e tramonterà le 18 e 31 minuti. Per quanto riguarda il tempo, cari telespettatori, c'è ancora davvero poco da dire, ma bene, bene così, nel senso che ci godiamo ancora queste giornate settembrine che a volte nel cuore della giornata sembrano essere di primavera se non fosse per il colore degli alberi, il colore della vegetazione che circonda e che ci fa capire invece che siamo in autunno. Quindi poco da dire. Oggi, domani e dopodomani, insomma fino a sabato avremo cielo sereno, poco nuvoloso. La situazione comunque sarà stabile e soleggiata anche nel fine settimana. Le temperature sono senza variazioni di rilievo. Le temperature massima la registreremo intorno alle 5 del pomeriggio ad Ascoli Piceno, mentre quella minima sul Monte Bove, 11 gradi. Ma insomma, ci sta sopra i monti. Allora, andiamo a vedere adesso i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico. In primo piano, così come sul resto del Carlino, c'è la vicenda, o meglio, il controllo della Guardia di Finanza sulle Onlus, Onlus e No Profit, che sono state passate al setaccio e verifiche ispettive della Guardia di Finanza. Diverse sono le associazioni, senza fini di lucro, che le fiamme gialle stanno passando, dicevo, al setaccio. Nell'ambito del certamente andando a fondo tra i nomi emersi, spunta anche quello di Rita Cutolo, pranoterapeuta dell'associazione Angelo Onlus. Le viene contestata un'evasione di 700 mila euro dagli anni 2013 al 2017. La Cutolo non risulta ufficialmente indagata e gli avvocati della curatrice di Tavuglia sono sereni e dicono tutto è stato svolto in maniera legittima. Questa invece è la fotografia dell'ex tribunale e vecchio carcere minorile. Sono due spine per Pesaro, tesori in centro, i vuoti a rendere strategie in corso per recuperare il San Domenico e vendere il San Benedetto. Di spalle invece lo sfratto di nonna Peppina, quella ormai 95enne conosciuta in tutta Italia. De Micheli si impegna, Peppina non mollare, il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli ha inviato al governo un provvedimento per regolarizzare le casette autonome, tra cui quella della 95enne Giuseppina Fattori. Il Fano, quindi calcio di Lega Pro, ha rotto la serie negativa e ora attende il Gubbio. La pagina di Fano del Corriere, Dragaggio stanziati dalla regione 800 mila euro, il comune procede subito in autonomia. L'assessore prevede l'avvio dei lavori per il mese di novembre. Il circolo tennis avanti piano, non c'è ancora il Salvatore, la tua Fano accusa la Giunta di subire i fatti. L'assessore allo sport Caterina Delbianco invece è attendista. Non si è conclusa la trattativa del presidente Lungarini con Paci della Profilglas. E poi un errore tagliare gli sportelli dell'ex Carifano. La controffensiva dei sindaci, dopo Aguzzi, anche il sindaco di Fano Seri, scrive al gruppo Creval e a tutela delle agenzie di Carifano. Per il canale Albani, raccolte 1600 firme, incerto il ritorno di Ocche e Anatre al Miralfiore, vogliono il Cigno Ugo. E poi da Fano il resto del Carlino invece si interessa del piano sanitario, del trasporto non sanitario. Parla l'autista, bando misero, addio tutele ai malati, l'affondo con quelle risorse si può fare al massimo volontariato. C'è Bagar Politica, un'interrogazione in Consiglio Comunale a Fano dell'opposizione. Vedete Luca Serfilippi, indifferenti, dice Luca Serfilippi, i nostri amministratori. Poi una tragedia, quella che ha coinvolto un'ex commessa che ha perso la vita a Riccione, Rita Morganti, 49 anni, conosciuta a Fano, anche se da qualche tempo abitava a Riccione, pur mantenendo la sua residenza appunto in città. La tragedia è avvenuta venerdì scorso, l'hanno trovata a terra, è caduta dal terrazzo, un volo di circa 10 metri, terminato sopra la pensilina della porta d'ingresso dello stabile. La pagina delle Marche del resto del Carlino. Vado a passeggio, ma non è più tornata, siamo a Cupra Montana. Ecco la pagina del resto del Carlino delle Marche, questa è la fotografia di Marisa Iskra, 19 anni, scomparsa da domenica, sotto invece la madre, in questo tondo, in questo cerchio che adesso faccio di colore rosso, che ha lanciato più appelli anche in televisione. È sparita da domenica, è uscita di casa senza soldi e senza nemmeno il cellulare. Forse un allontanamento volontario, un momento, diciamo, tutto suo per pensare. Non può aver fatto, dice il fidanzato di questa 19enne, un gesto, non può aver fatto un gesto stupido. Rimaniamo sul resto del Carlino. Andiamo sulle pagine interne. Questa è quella di Fossombrone, Caglia, Urbagna, da Acqualagna, non solo Tartufo Bianco, Acqualagna è anche patria dei cani. Quelli da ricerca, le ricerche chiaramente dei cani da tartufo, sono tra i meglio allenati. E poi la notizia da Apecchio, dove un uomo è stato soccorso dai vigili, ora sta bene. Un passante aveva sentito delle grida, gridare aiuto da un burrone. Arriva anche l'eleambulanza, alla fine lo hanno trovato e per fortuna sta bene. A Fossombrone serve il bando invece per la casa di riposo. Chiarabilli del PD incalza la maggioranza dei 5 Stelle. Sull'aeroporto, siamo sulle pagine di Fano del Carlino. Se l'aeroporto, se si farà la pista in cemento, dice Drudi, il presidente della Camera di Commercio di Peso Urbino, se si fa la pista in cemento noi resteremo come a Camera di Commercio. Enac è disponibile a tornarci su una volta risolti i conflitti e Drudi dunque ci sta. Doppio tamponamento in A14, invece è ferito anche il sindaco di Pescara. Fiat doblò provoca la reazione a catena, Tir spinge un furgoncino contro il guardrail. Dunque, la notizia, sì, sono di questi incidenti che si sono verificati nella giornata di ieri in A14, poco distanti dal casello di Fano, ma sicuramente la notizia è che c'era anche in uno di questi incidenti anche il sindaco Alessandrini con la moglie Mariela di Nicolantonio, che poi sono stati trasportati al pronto soccorso di Pesaro per degli accertamenti. Il sindaco appunto è quello di Pescara. Sul carro di Carnevale, il carro rossignano, Pesaro ci crede. Stasera l'ente carnevalesca discuterà di bilancio e ancora di biglietti d'ingresso. Vimini, conquistato dai disegni di Pierluigi Piccinetti, il maestro carrista che realizzerà il carro rossignano, e adesso insomma è alla ricerca di risorse. Finora si è parlato di 60 mila euro, ma forse non basteranno. Quindi sarà, immagino, un carro davvero strepitoso quello che sfila il prossimo anno al Carnevale di Fano. Cartelli antilucciola invece a Marotta contro le prostitute, tolleranza zero. Il vice sindaco di Otallevi, vice sindaco di Mondolfo, dice scatteranno multe fino a 200 euro per chi sgarra, spuntano segnale di divieto anche in via Foscolo sulla Litorania e sulla Cesanense. A Marotta la 24enne adesca l'anziano, lui la insegue e si ripiglia il maltolto. La giovane, seppure rifiutata, era riuscita comunque a rubare la catenina e a nasconderla negli slip, con la solita tecnica dell'abbraccio. Queste donne puntano agli anziani, si avvicinano con fare molto socievole, da gatta morta, verrebbe da dire, poi cercano di abbracciare gli anziani e insomma alla fine l'obiettivo è quello di sfilare, non di dare affetto ma di sfilare gli affetti cari che hanno spesso al collo, quindi le catenine. Andiamo avanti, vediamo le altre pagine dal resto del Carlino. Siamo sulla pagina di Pesaro, un terzo dei profughi fa volontariato. Alessandrini, che è il presidente Hauser, spiega le attività seguite dall'associazione. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, le precisazioni dunque di chi sta sul campo e di chi questi profughi li accoglie e in qualche modo li gestisce ogni giorno. Un centro sportivo al furlo e una scuola di formazione a casa Freedom di Acquaviva. Questi sono i progetti per l'accoglienza dei migranti. Poi c'è questa notizia sulla quale invece vorrei soffermarmi un secondo in più. Don Germano non si tocca, il Vescovo parla di una pagliacciata. Il Vescovo è quello di Pesaro, Piero Coccia, che come tutti i Vescovi e come è giusto che sia ogni tanto sposta qualche sacerdote da una comunità all'altra, da una parrocchia all'altra. Ora, quando i parrocchiani vanno contro il Vescovo non è una bella cosa. Il Vescovo ha detto che è una pagliacciata. In realtà è una cosa molto più seria perché la disobbedienza non è da cristiani. Quindi i parrocchiani farebbero bene a starsene in silenzio e ad accettare le decisioni del proprio Vescovo. Un milione di euro è un centro per seguire i malati di autismo. Siamo sempre sul resto del Carlino. Biancani conferma gli stanziamenti della Regione. Sono 250 gli autistici seguiti dal servizio sanitario. Una struttura sarà a nord. E poi chi non conosce, Raul Zini. Raul Zini è nominato professore a Ferrara per meriti acquisiti. Dunque è stato nominato professore straordinario alla Facoltà di Medicina dell'Università di Ferrara. Una nomina arrivata per meriti acquisiti sul campo in oltre 40 anni di professione. Raul Zini che ha operato per diverso tempo anche a Fano. Alla pagina di Urbino del resto del Carlino. I lavori ai collegi termineranno a marzo. Domani visita del presidente Luca Ceriscioli. Saranno ambienti più sicuri e meglio illuminati. Poi torniamo sul Corriere Adriatico dalla Valle del Cesano. Eccola qua, l'altra notizia, sempre la notizia della donna che è stata fatta arrestare. Questa donna che andava alla ricerca con la tecnica dell'abbraccio di collanine d'oro da sfilare. Derubano un anziano con un abbraccio ma lui lo insegue e la fa arrestare. Rumena di 24 anni, manette dopo il furto di una catenina d'oro ad un novantenne. Un concorso per i soldi risparmiati dalla Giunta. Il Sindaco chiede idee ai cittadini per impiegare il taglio degli stipendi. Ci sono queste proposte da inviare entro la fine del mese. Già disponibili 16.500 euro che saliranno a 60.000. Poi volontariato e assistenza, due lutti lasciano il segno, Cordoglio per l'artista Maurizio Paolasini e poi per Suor Livia della Mussia, due lutti che hanno colpito la città di Mondolfo. Da Senigallia invece la piscina è vietata ai disabili. I ragazzi della polisportiva Senigallia, costretti ad allenarsi nel vecchio impianto al Molinello, finiti sette volte sul podio in gare nazionali, hanno solo sei ore a settimana in corsie affollate. Gestione della casa di riposo a Fossombrone, 17 proroghe per la cooperativa a Fossombrone. La minoranza attacca, affidamento da 720.000 euro in piena violazione. Poi l'ultima pagina, sempre dal Corriere, quel tratto di statale è buio e pericoloso, troppe segnalazioni rimaste inascoltate. Il titolare dell'hotel Miramare dopo il tragico investimento dell'anziano martedì sera a Sottomonte. Poi sotto, tamponamento in A14, coinvolto anche il sindaco di Pescara, incidenti in autostrada Trafano e Pesaro in quattro. Sono finiti al pronto soccorso. La rassegna finisce qui, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale e che se volete collaborare con noi, con la nostra redazione, avete questo numero di telefono che è appena apparso sul vostro teleschermo al quale potete inviare le vostre segnalazioni anche utilizzando WhatsApp. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.